A poche ore dalla chiusura della campagna elettorale per le comunali ed alife la febbre sale vertiginosamente, non sono mancati i veleni che quasi sempre scandiscono i giorni e poi le ultime frenetiche ore prima del voto. Noi abbiamo sentito l'avvocato Roberto Vitelli opposto alla lista del dottor Salvatore Cirioli. Allora una campagna elettorale diciamo abbastanza velenosa no? Sì l'ho detto già stamattina in un'intervista, la campagna elettorale è partita abbastanza in modo forte, acceso, ci sono un po' dei veleni, qualcosa avevo messo in conto per la vita. Devo però dire che gli attacchi e la voce che abbiamo ascoltato in questi ultimi giorni è superiore a quelle che erano le mie aspettative negative. Diciamo che c'è stato qualche passaggio superiore a quello che pensavo avvenisse, però fa parte del gioco voglio dire, cerchiamo di portare avanti il nostro percorso senza farci assolutamente scoraggiare. C'è stato qualche frase, qualcosa che l'ha colpita negativamente più delle altre? No, di frasi ne sono state dette parecchie per la vita, non vorrei citarne qualcuna in particolare, qualcuna è tipo che dovrei andare dall'IFE, definire insomma un gruppo di persone, noi con riferimento alla nostra squadra non abbiamo agenti speciali, non abbiamo imprenditori senza dipendenti, e soprattutto non abbiamo faccendieri, beh qualcosa di molto grave. Noi nel nostro rivolgerci agli avversari non ci siamo mai permessi di lanciare pite, chiaro c'è stata una critica di carattere politico ma non abbiamo mai espresso giudizia e valutazioni sulle persone, sui lavori, sulle professioni e quindi riteniamo che il nostro modo di agire sia totalmente diverso da quello degli avversari. Perché i cittadini dovrebbero votarla? Beh, i cittadini mi dovrebbero votare perché, innanzitutto perché è una squadra di persone competenti che vogliono stare insieme, saranno capaci di stare insieme con tante professionalità, quindi è un vero gruppo la nostra compaggia, non è un gruppo assemblato all'ultimo momento, è un gruppo di persone che sanno convivere e oggi più che mai è necessario che le amministrazioni siano costituite da persone che hanno la capacità di stare insieme, altrimenti l'azione amministrativa non si porta avanti. Perché dovrebbero votarmi come sindaco? Perché so cosa significa essere sindaco, la difficoltà del ruolo, so come poter veicolare su Alife importanti finanziamenti, risorse per realizzare opere, so come affrontare le problematiche di Alife, tra cui anche la situazione finanziaria di cui tanto si parla in questo periodo, si vogliono descrivere dei mostri delle situazioni impossibili, dico la situazione dell'ente è esattamente uguale a quella di tanti altri comuni, non è una situazione drammatica, non è una situazione semplice, basta portare avanti una sana politica finanziaria di riduzione spese, costi e soprattutto anche di gestione dei tributi, delle entrate, perché per quello che mi risulta le entrate comunali, le entrate tributarie, insomma ci sono dei residui attivi che dovrebbero essere ancora incassati, quindi ho delle idee precise. Come non gravare sul bilancio dell'ente? Le opere pubbliche dovranno essere realizzate proprio attraverso i finanziamenti europei, che come ben sapete sono a fondo perduto, quindi l'amministrazione deve avere una capacità concreta di veicolare su Alife tutte le risorse possibili in modo che le opere pubbliche siano realizzate senza gravare sul bilancio, il bilancio deve essere gestito in modo competente. Se sarà lei il sindaco di Alife, quale sarà il primo provvedimento che farà? Il primo provvedimento ce ne sono alcuni che vanno fatti proprio subito, mi viene in mente la sottoscrizione, i cittadini lamentano che non sono stati sottoscritti i contratti, cose banali peraltro, delle concessioni cimiteriali delle cappelle, cioè i cittadini hanno acquistato cappelle gentilizze, loculi presso il nuovo cimitero, che voglio ricordare è un'opera che ho realizzato con la mia amministrazione, un progetto di finanza, un'opera importantissima, e non hanno visto la sottoscrizione del loro contratto, quanto questo mi pare che sia l'ABC dell'attività amministrativa, cioè hanno pagato, hanno sottoscritto un preliminare, e questo adempimento, che veramente rientra nella normalità, è in sospeso ormai da molto, troppo tempo. Questo è il primo provvedimento. L'altro provvedimento vedo i monumenti a Lifani in stato di abbandono, il criptoportico, il mausoleo, l'anfiteatro completamente sporco, erba alta, ringhiera, rugginita, addirittura la cartellonistica che ne indica la storia, il percorso è sbiadita, scolorita, quindi va fatto questo intervento subito per renderli fruibili alle utenze, così come qualche intervento deve essere fatto anche sul criptoportico per renderlo fruibile. Penso che altri interventi urgenti sarebbero un'immediata opera di bonifica, mi riferiscono, e per la verità, vivendo anche io nel centro storico, che le caditoi del centro storico rappresentano qualcosa di insopportabile, gli odori nauseabondi che salgono dalle caditoi, quindi sicuramente dell'attività di espurgo immediata per ripristinare un poco di igiene nell'ambito del centro abitato, così come la pulizia del baccio, la manutenzione di alcune strade che presentano buche abbastanza evidenti, insomma una manutenzione ordinaria che deve partire subito per dare un segnale concreto ai cittadini. Quindi diciamo che i conti non la preoccupano più di tanta? I conti non mi preoccupano perché questo è il cavallo di battaglia di Salvatore Cirioli. Salvatore Cirioli purtroppo quando parla di conti del bilancio non è onesto. Noi abbiamo, come lui, gli elenchi del DL35 e anche del DL66 e del DL14, dei crediti legge, che sono stati convertiti in legge. Leggendo queste somme e queste spese di fatture, di lavori ed altro, ma è proprio documentale che si riferiscono sia all'ultimo periodo della mia precedente amministrazione anche agli anni precedenti per la vita, ma anche e soprattutto agli anni successivi alla mia amministrazione, quindi parliamo del 2009, 10, 11, 12 e 13, perché con queste anticipazioni si possono pagare debiti certi liquidi ed esigibili che possono fino al 31-12-2012 e 31-12-2013, così come forniture, quindi fatture di quel periodo. Allora, perché? Se l'ente oggi ha fatto ricorso, come hanno fatto tanti comuni, ricorso all'anticipazione di liquidità, perché si vuol dire che quelle somme che l'ente ha pagato si riferiscono solo ed esclusivamente alle mie gestioni amministrative? Si riferiscono come i documenti in possesso di cittadini anche alle gestioni successive? Tutte? E ricordiamo che c'è stata una gestione amministrativa di 5 anni, di cui in questa campagna elettorale per la vita si parla molto poco. Allora, io non voglio accusare nessuno, ho ribadito il concetto, i debiti non sono debiti del singolo amministratore o del singolo sindaco, sono debiti dell'ente, perché sono tutti obbligazioni che il Comune ha assunto nel rispetto della legge, cioè ci sono determini di affidamento, ci sono impegni di spese, c'è solo una difficoltà di liquidità che ha obbligato l'ente a fare ricorso a questa anticipazione di liquidità. In mancanza di questa anticipazione di liquidità, l'ente Comune di Alife, come tutti gli altri comuni, che guarda caso tutti i comuni hanno fatto ricorso a queste anticipazioni, avrebbero dovuto dichiarare di sesto, perché ho sempre detto, com'è che lo Stato non si rende conto che gli enti hanno una difficoltà di cassa troppo evidente, quindi ci sono i debiti della pubblica amministrazione che devono essere onorati se non ci sono risorse? È chiaro che bisogna attivare una procedura sana per quanto riguarda la gestione dei tributi, migliore di quella attuale, che consenta di, praticamente, di fare entrare maggiori soldi e quindi procedere ad una sana gestione dei bilanci, dei consultivi e di tutto. L'ultima domanda, però brevissima la risposta. Ha la possibilità di mandare un messaggio ai cittadini? I cittadini il messaggio è molto chiaro. Votate noi, votate la lista da me rappresentata, votate un gruppo di persone che vive bene insieme, competenti, che soprattutto è stato costruito questo gruppo intorno ad un programma, un programma condiviso. Noi non ci siamo presentati ai cittadini per caso, abbiamo sottoscritto, il nostro programma è frutto di tante serate di lavoro dove abbiamo indicato le priorità, le problematiche e i programmi futuri. Questo è quello che differenzia noi dagli avversari. Gli avversari non hanno un programma, li abbiamo sbugiardati in quanto hanno scopiazzato in malo modo il programma della città di Ferentino per la vita. Quando si parla di realtà, onestà e trasparenza, che è lo slogan, perché poi Salvatore di Cirioli è preso da questo sloganismo compulsivo, vive di slogan, lancia slogan e fa interventi di pochi secondi. Per la vita è una cosa che a noi non ci riguarda perché il nostro programma è serio, non abbiamo bisogno di copiarlo da altri, abbiamo chiare intenzioni di quello che vogliamo fare per Alife. Da Alife è tutto, Lorenzo Plauso per casertasera.it Grazie